A.S.D. di Roma 2000, la Siracusa invece ricordiamo è A.S.D. Nuovi Orizzonti. A.S.D. iniziata Pizzino con la palla al piede a contrasto Censi e Ruocco parte lui palla al piede prova il tiro Rete il capitano con il numero 10 ha segnato il capitano Vincenzo Censi. E' un fallo su una chiamata forse il portiere lei ha chiamato palla e Zungri non ha tirato no no non abbiamo sentito sicuramente immagino che sia andata così per aver valutato il fallo l'unica cosa diciamo erano da soli erano Zungri nell'area piccola del portiere contro il portiere se l'arbitro ha deciso fallo. Ciao Nicola Mauro che sta seguendo la partita ci dà indicazioni dal calcio d'angolo dalla diretta. Tiro libero quindi per il Siracusa allarghiamo un po' l'immagine per i nostri amici non è non è uno sprovveduto tiro libero Luciano Papa contro Marco Pizzi un numero 10 contro un numero 0. batte i pali in maniera un po' cortodossa la guida del Siracusa. Sì ma è ok Luciano si era trovato un po' in confusione perché il portiere gli ha chiamato il palo destro in realtà ovviamente il palo sinistro in realtà era la sua destra quindi. vediamo se è pronto al tiro l'arbitro fischia tiro parata centrale centrale i 12 metri la rilancia verso Ruocco Giuffre la tocca male Ruocco si allontana troppo dalla porta cerca di rientrare seguendo le indicazioni rete rete con il numero 9. ha segnato il mancino di Giuseppe Ruocco prova ha perso palla e si è spiccato sulla palla è tornato ed è finita la partita finisce la partita 2 a 0 tiro libero sbagliato dal Siracusa ricordiamo le reti con il numero 10 il capitano Vincenzo Censi con il numero 9 Giuseppe Ruocco e questo è tutto. Siamo con il Miss a Roma una partita sicuramente interessante ben disputata parliamo di calcio a 5 i cecchi. Sì cecchi assoluti sì no è la prima partita del campionato oggi abbiamo fatto una buona vittoria potremmo sicuramente far meglio però insomma va bene è andata bene così il risultato sicuramente era importante domani abbiamo un altro sconto un po' complicato con il Lecce vediamo insomma speriamo di riuscire a far bene anche domani. Noi vi facciamo i complimenti per il fatto che ci sono anche molti giovani nella formazione che è buon segno che significa che le famiglie aprono hanno aperto i cuori per portare i ragazzi a casa. Questo sicuramente è una cosa molto importante per noi ci teniamo molto perché abbiamo una scuola calcio quindi noi andiamo a pescare nella scuola calcio cerchiamo di far crescere i ragazzi portarli in prima squadra oggi ce ne erano 3-4 che vengono dalla scuola calcio quindi insomma è proprio una nostra priorità al di là del risultato che conseguiamo i ragazzi devono crescere. Fortemente l'AS Roma ancora una volta al nostro fianco con mille iniziative sia per noi che per i nostri ragazzi oggi veramente ci riempie il cuore che il dottor Pastorella sta qui insieme a noi e lo ringraziamo fortemente per la sua miseria. Buonasera a tutti stare con voi è sempre un'emozione io sono orato di rappresentare la Roma qui e sono orato di vedere voi giocare impegnarvi divertirvi cantare le canzoni della Roma avete emozionato tra l'altro oggi è anche speciale perché ho i quattro nonni di noto quindi sono sono di giù cioè io sono andato a Roma ma i quattro nonni sono di noto quindi è una partita speciale anche per me è importante è importante sottolineare che stiamo stiamo dando l'esempio voi state dando l'esempio la Roma sta dando l'esempio perché mi piace condividere con voi che la Commissione Europea ha per raggiungere gli obiettivi del 2030 il calcio come asset principale e quindi ha incaricato l'UEFA di trovare di identificare un club pilota per le strategie di sostenibilità dove sostenibilità non è soltanto ambiente sostenibilità anche e soprattutto diritti umani inclusione quindi l'UEFA ha disegnato la Roma non ha disegnato altre squadre italiane non ha disegnato altre squadre europee ha disegnato la Roma e quindi questo è anche grazie a voi e al vostro impegno in questo contesto ci piace ricordare l'iniziativa superiamo gli ostacoli che vive dei protagonisti perché abbiamo deciso di portare allo stadio le persone che hanno problemi ovviamente di disabilità di problemi anche i disabili di ambulanti ma soprattutto abbiamo esteso questa possibilità durante la settimana tutti i giorni ci sono delle auto che noi abbiamo chiesto alla Toyota Toyota Quinto che ci aiutano a supportare diciamo le catiree meno vantaggiate quindi anche a voi vi portano due volte a settimana a fare gli alleamenti che vi portano a casa lo facciamo anche con la Roma Calcio Amputati lo facciamo con le donne vittime di violenza lo facciamo con gli anziani lo facciamo con i genitori che hanno i bambini purtroppo i genitori fuori sede che hanno i bambini ospedalizzati purtroppo malati di cancro quindi cerchiamo di dare il nostro supporto mettiamo a disposizione gli sponsor per poter aiutare voi che siete gli eroi perché non lo dico perché siete qui vi porto come esempio vi porto lo sapete nelle manifestazioni per insegnare ai ragazzi quello che fate perché se voi non vi fermate superate gli ostacoli e continuate a giocare a pallone nonostante questo problema che avete nonostante non vediate volete giocare a pallone con forza ci riuscite vi impegnate anche poi chi vi supporta la famiglia beh voi siete un esempio e per me dovete dare esempio agli altri grazie allora oggi siamo qui c'è anche il nostro presidente Roberto Remoli che è voluto stare qui insieme a noi vicino a noi in questa giornata e allora il primo omaggio che facciamo è un omaggio un po' particolare per noi e omaggiamo un amico una persona a noi molto cara e devo dire che questa iniziativa non viene da me perché sarebbe stato troppo facile per me come un fratello ma viene dal nostro direttore sauro cimarelli in accordo con il capitano e perché massimo penso che è rimasto nel cuore di tutte le persone che l'hanno conosciuto quindi per questo omaggiamo massimo con la maglia più importante della nostra squadra la maglia più gloriosa quella del capitano la numero 10 grazie 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 Buonasera a tutti In aggiunta a quello che il nostro mister ha detto sul Massimo Io a nome di tutta la squadra e della società voglio dare questa maglietta alla sorella di Massimo Perché spesso quando si parla di portatori d'handicap si parla di persone speciali Massimo non aveva handicap però era speciale perché Massimo ha dedicato parte del suo tempo a noi E noi questo lo porteremo sempre in nostro cuore Grande Massimo, grazie A posto allora, tutto ok, vediamo Dovrei fare foto? Così, vieni capito? Così, tieni la maglia Vai Romolo Va di qualcosa a me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti È una persona fantastica Purtroppo ci ha lasciato prima del dovuto ma... Questo omaggio significa tanto per noi e... Vi ringraziamo davvero con tutto il cuore, purtroppo non è tanto facile farla a me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Come squadra, come gruppo, come club, siamo sempre vicino a chi ci segue, ai nostri tifosi È per questo che adesso omaggiamo una persona che ci segue ormai dal 2003, da quando abbiamo vinto il primo scudetto Forse ha visto più partite lei che gli è stato messi insieme La omaggiamo con una targa ricordo, facendo nostre le parole del grande capitano Agostino Di Bartolomei Ci sono tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi dell'ASD di Roma 2000 Grazie per questi venti anni sempre al nostro fianco Anna Dobbici Ti facciamo premiare dalla S Roma, visto che è una grandissima tifosa giallorossa Ci abbiamo qui la Roma apposta per te, venuta apposta per te Ha visto più partite lei che gli è stato messi insieme, veramente Grande Anna Grande E' dovuta, è dovuta Vai, vieni qua La foto, grazie Voi siete matti Ci mancheremo Senso matti ce li volevo Brava Grazie Ti faccio di niente No, no Te lo risparmiamo Questo te lo risparmiamo E poi per ultimo vi lasciamo Poi vi lasciamo alla serata Vi ringraziamo ancora di essere qua Oggi per noi è ancora un giorno particolare Perché premiamo un nostro grande calciatore Un calciatore che cinque anni fa ci ha contantato dalla Francia Tifosissimo giallorosso E ci ha espresso Ci ha fatto una richiesta Di realizzare il suo sogno Di giocare con la maglia giallorossa E oggi è l'ultima partita della sua carriera E l'ha voluta fare con noi Allora Volevo dire Volevo dire Volevo dire Volevo dire che Joan Joan è venuto dalla Francia sempre In autonomia Sempre da solo È un calciatore stato esemplare Ha riempito la nostra squadra di professionalità E di tantissima simpatia Ti porteremo sempre nel cuore Grande Joan Consegna la maglia al presidente Presidente La maglia numero 7 Grazie Grande Joan Aspetta Aspetta Gira la Non ti emozionare Stai tranquillo Aspetta C'è un'altra sorpresa Stai là Stai là Allora Fermo lì Non te ne andare Fermo lì Stai buono Non ti emozionare Che adesso viene il bello Perché la Roma Ti ha fatto un altro grandissimo omaggio Ti stanno per consegnare la maglia di Luiz Patrizio Grazie Luiz Patrizio Scusate Grazie Grazie ancora la Roma Per questo omaggio Sentitissimo Grazie E adesso Giovanni Gli puoi pure regalare il cappello Volevo 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 Grazie Grazie Volevo 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 Volevo